Sono partite dai cittadini le segnalazioni a Calcinelli in merito ad un malfunzionamento del semaforo centrale che si sosteneva a emettere contemporaneamente luce verde in due direzioni di marcia contrari. Per questo l'amministrazione ha precisato che dai primi del mese di dicembre è stato richiesto l'intervento di un tecnico manutentore al fine di verificarne anomalie. Dopo giorni di controlli e verifiche il tecnico ha comunicato il perfetto funzionamento dell'impianto. Così il personale di polizia locale nei giorni a seguire ha effettuato numerosi servizi di controllo dell'impianto con orari diversificati ed in forma anonima in collaborazione anche con i carabinieri. A seguito di nuove segnalazioni è stata anche simulata con forzatura l'accensione contemporanea di due verdi contrari con intervento della sicurezza che ha subito messo l'impianto a lampeggio. I controlli da parte della polizia si sono succeduti fino ai giorni scorsi e sono state accertate 30 infrazioni relative al passaggio con semaforo rosso nelle direzioni di marcia Fossombrone-Fano e Montemaggiore-Saltara che verranno recapitate ai trasgressori. L'intersezione semaforica fa sapere l'amministrazione viene costantemente monitorata dalle telecamere. Proseguiranno nei prossimi giorni i controlli da parte della polizia locale. A confermarlo è il sindaco Stefano Aguzzi che ha detto di ritenere fondamentale mantenere la sicurezza e l'incomunità pubblica sul territorio. Dopo aver vigilato sull'impianto annunciato il primo cittadino si è constatato che non si è trattato di un malfunzionamento ma della cattiva abitudine degli automobilisti di attraversare con il rosso. Per questo è richiesta a tutti maggiore attenzione.